Sono Ben Marullo e sono su Party Panic. Per il momento sto vincendo con il mio pestaggio blu. Il verde è morto. Siamo tornati, signori. Adesso siamo in una nuova mappa. Il rosso sta facendo più forte di noi, signori. Forse questa la perdiamo. Ma l'importante è di... Signori, vorrei salutare in questo video il vostro caro Mike. Ant. Francesco Maranca. E Andra Kira. E Tizia di Fabio. E infine Furlone. Andiamo avanti. Perché se sono scemoniti. Io sto a 70 di grosso. Sto a scemo a vincere. Che cazzo. Sì, che palle. Quindi raga, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.